salve amici fratelli della congrega ora chi non riesce a comprendermi e non entra nel mio mood nel mio mondo meglio meglio se ne astenga perché potrebbe diciamo entrare in contatto telepatico sicuramente con una persona che destabilizza le sue certezze in questa società dove tutti sono livellati sintonizzati appiattiti omologati quindi non vuole essere un video a scopo promozionale nel citare il frusciante il frusciante che un bravo ragazzo nonostante tutto a prescindere ora mi piace questo look da ragazzo selvaggio selvatico in selvaticito o impratichitosi si può dire nella vita ora mi non riesco a capire si gli chiesi due recensioni riguardo lo spaventapasserie smoke andate nel suo canale ritrovate meno che non le cancelli perché forse si è scordato dopo le acrimoni e senza troppe cerimonie con censura era tutto le diatribe o diatribe anche dir si voglia di avere realizzate anch'io le scrisse anzi le avevo scritte prima di elargigli monetariamente a livello pecuniario ecco questi soldi per sostentarlo appoggiarlo bisogna appoggiarsi ora non riesco a capire perché frusciante malgrado sia un uomo un omone un orco di quasi scusate sto digerendo il ginseng 50 primavera e non riesce a pronunciare non riesca a pronunciare ecco i congiuntivi dobbiamo anche un po aggiustare che dico e gene akman è facile gene akman nella conversazione c'è gene akman e nello spaventapasserie scarco gene akman gene gnocchi e non dice mai avete notato questa donna è una bella gnocca che gnocca è più tipicamente felsinio ecco dicevo feico frusciante in questi frangenti si dimostra un po boomer no mi conosce perfettamente l'inglese e ascoltate la sua esatta pronuncia da io non speak english a palo villaggio nella sua intervista a giudante bellissime la sua domanda non è retorica dante fra l'altro il cognome ha una certa attinenza col poeta sommo proxamance per eccellenza c'è il nostro dante allievi in realtà dante non era proprio di livello e allora io sono dantesco pinocchiesco sì sì ecco mi sembra pare robert de nero di showtime di tom day quando ecco quello di star trek no non è lui william shadner gli chiede di recitare non sta parlando con il primo arrivato con robert de nero due volte premio oscar noi controlliamo il nostro quartiere vicinato ogni venerdì sera giovedì sera quasi venerdì venerdì 13 poi da non confondere jason lino non si sbaglia frusciante con michael myers perché del suo idolo carpenter all una notte delle streghe ogni santi per il giorno dei morti dicevo ecco quelli deniro recita apposta in maniera dozzinale amatoriale da chi ha problemi nell'elochio no non sa ben parlare controlling your neighbor every friday night date edi marphy controlli your neighbor every friday night date it's easy controlling your neighbor no dobbiamo rifarla è venuta male bodycap movie 48 ore no no o meno ore per per salvarvi da questa situazione no 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 adesso sarò salito sì 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 dai suoi followers controlli your neighbor every friday night the date it's easy it's short time stupides deniro come stupido questo deniro allora ecco mi è tornato in mente l'ho visto questo il mostro della cripta c'è chiara caselli è quella di di belli e di gas vansante di gas vansante ma vogliamo mettere vansante con no steven vansante quelle di bruce piste e la street band che compare anche nessuno lo menziona lo cita fra l'altro nella scena della festa no cosi deniro di erishman è lui che canta poi un parruccato poi c'è anche un altro vansante lasciamo stare le d e le t ecco non ho assunto lsd chiariamo se non mi sono mai drogato fumato sì 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 sono ormai un tabacista ecco vansante william scherner ma chi è e fitchner fincher e fitchner c'è quello che compara anche il cavaliere oscuro e per questo ecco nolan ha omaggiato allora perché ha chiamato deniro però c'è arpacini insomma che a me non piace è proprio brutto quel film perché si capisce subito che il cattivo può essere roby williams ma si deve capire è giocato sulla suspense non è giocato nello scoprire chi è ecco quello che si annida al buio viene subito smascherato mentre michael myers interpretato da tre attori diversi l'ho scritto nel mio libro john capito il priest of darkness allora dicevo chi era caselli no no luca guadagnino no ma cos'è la versione belle e dannati nostrana no 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 quello lì timo tescia la ma è visto le lamette del barbiere mento affilato di uomo della mente culturata uomo raffinato lo so vengo accusato da un mio metter di essere autistico io sono un grande autista e recito in maniera diciamo con la sordina da ryan goslin di drive poi anche sono un po inquietante perturbante come bob genio di taxi driver forse sono driver l'imprendibile con ryan o'neill di walter hill o volete che ve la rifacci cia 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 della segreta aria cia 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 controlli 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 controllati allora non andare altro controlli orviive chemical brothers controlli your neighbor never fra United it's easy ok faccio no difetta questa pronuncia, Ginec, ma è proprio Ginec. Allora, i rappresenti non sono tutto attaccato, nel cartaio no, nel cartaio no, cioè Silvio Muccino, è lì Dario Argento, è Dario Argento, Chiara Caselli, non confondi con Caterina Caselli. Fra l'altro, un po' la Pitagora molto bella, nei pugni in tasca, di Marco Bellocchio, no? Vedete, io sono un po' una strega, il diavolo in corpo, a Frusciante non piace zucchero, c'è un diavolo in me? Gloria nell'alto dei cieli, ma non c'è pace qua giù, solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Ecco, Chiara Caselli, è recitata anche con Pupiavati recentemente, è stata riscoperta, rediviva, tra l'altro sembra un po' zombificata, si è un po' imbruttita, ecco che poi... Allora, Frusciante, lo vedrai bene, ecco, a proposito della Toscana, nei panni di Mangiafuoco, Mangiafuoco, che sta là, manovra tutti i burattini, che gli lecchia il culo, sono Frusciato col barbone, barbuto, adesso muovi in Natale, e, e, vuoi viene Natale, e, e, perché critica? Gli piace Kurt Russell di Fuga da New York, della Cosa, di Carpet, e lo critica... nei panni di questo Santa Claus, con gol di O, ma è così simpatico, no? Sono veramente diabolico quando voglio, sono falotico, scusi, essere stravagante e bizzarro, e di qua, di là, non lo so, eh, sì, dicevo, Michele Suavi, ha recitato con Suavi, con suavità, la Caselli, e poi anche in al di là delle nuvole, di Michelangelo Antonioni, no, Antonioni no, Antonioni calciatore, la Fiorentina, Antonioni, al di là delle nuvole, ma c'è Kim Rossi Stewart, sì, certo che c'è lui, e anche in tutti dicono I love you, nel Pinocchio, di Benigni, è allucignolo, fruscianti piace, c'è Kerini, vero? Volete che vi... Limiti, non ho già fatto, Kim Rossi Stewart, eh, vincerai Stefanino, il mongolino d'oro, il ragazzo dal kimono d'oro, e le chiavi di casa, eh, questi adulti, balanzoni, invidiose, come Charlotte Rampling, delle chiavi di casa, no? Allora, ah, fu accusato di essere timido, di soffrire di atemia, mi piace Filippo Timi, scusi, anche se è un po' balbo... aziente, tartaglia. Allora, il diavolo, Valanzasca, gli angeli del male, adesso ci vuole una recitazione placida, la Michele Placido, la placidità, la beltà, la mia venustà, non ancora distrutta da chi soffre affetto da vetustà, questa vecchiave, ma non mi riferisco a fruscianti, eh, non ho questi bolognesi di panza, e d'arroganza, ma come siete per me, siamo? L'uomo guarda lui lì, ma che pesce di essere, ma stai ben calmino, Dio bonino, favorisca patente e libretto, ma chi è questo? L'è un gullotto di aricio? No. Adesso passa uno, un attimo, adesso mi devo immedesimare, metodo acto studio da Bobby De Niro, ok? Vi ho beccato, Ragazza, hai fatto tredici, sono Renato Valanzasca, non si è sentito bene, vi facciamo, ben René, dicevo a casa mia c'è il bar René, con l'accento dall'altra parte, ecco, e ragazzo hai fatto tredici, sono Renato Valanzasca, Renato Valanzasca, ok, ma io potrei essere anche più bravo di De Niro, ma chi è De Niro, in fondo? E ferrucciamente lo doppia male, negli indocabili, ma tu non sei niente, tu sei solo chiacchiere destitivo, con me non ce la puoi fare, buffon! Ma la la! E quelli che mi danno, che poi io non sono omofobo, però non sono omosessuale, altro Chiara Casella è anche in occhio Pinocchio, Francesco Nucci, il signor 15 palle, io rompo sempre i coglioni a tutti, allora, metto tutte le palle, mia, in buca, nel buco lì, no, allora, dove ti sei imbucato? Ma ribuchi? How? A bucaiolo! Allora, dicevo, adesso mi sono perso, vedete, che cazzo stavo dicendo? Controlling your neighbor every Friday night, it's easy, non sono un babau, so emulare, diciamo, scimiotare, così dire, non le scimmie, anche il verso onomatopeico del cane, sì, quanti dicono, quello è un figlio d'antrochia, quel finocchio, 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 state in occhio, allora, bravo aglio, tutto a posto, c'è qualche problema, tutto a posto, c'è qualche problema? Controlling your neighbor every Friday night, le decisi e si si fede gene ce n'è ce n'è una questione di eogenetica e quello è malato gene geneticamente se l'ha detto l'ignorante che si è comprato il diploma non riferisco a fruscianti con i punti non ti mettere contro di me mi sto rivolgendo a te perché tu sei come aldo fabrizio tu avanza e ci dai a l'anzo scorre john trombone e faccio da tremolo e ragazzo hai fatto tre diciamo renato valanzos che dicevamo sono un imitatore sì 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 sono il nuovo gg sabane da un confondo la visione del sab poi dopo domani sarà sabato è un sabato italiano c'è chiara caselli il mostro della cripte non è male però come film è godibile poi c'è tutta quella critica la cultura dei padri e basta con nanna moretti che già nell'88 aveva già ecco proprio i bianchi questa frustrata e vanno presa frustrata ma eh sì pinocchio lì in sicilia dicono eh però chiara casilla libri belli minghi pezzistichi non mettetevi contro di sì sono il diavolo sono sono io mi avete scoperto oddio dovete bruciarmi adesso ma io brucio già qui la mia vita l'inferno 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 d'aria argento sospiro giochiamo di diaframma ci vuole un sospiro il ponte dei sospiro via venezia un bacio fra due innamorati gene hackman a volte sono un po' devenziale come mel brux di frankenstein frankenstein junior eh no più che altro diretto da lui dice c'è g1 ma ma ti fermo eh gene hackman è cieco a me disse ma quelle cieche tonto quelle infatti quando telefonai affrusciando ma chi sei quello sorvito fulminato oddio sì sì ebbi un colpo di fulmine quando vedi chiara caselli era molto bella l'epoca però adesso è di bologna di bologna questo mosto della cripta ambientata a piacenza vicino alla val trebbia dio pors allora qua c'è un valotica che diciamoci le cose come stanno bella da mamma sì però ecco non sa accendere un cazzo dobbiamo girare qua ecco adesso ha acceso si è acceso nella mia vita si è riacceva vogliono spegnerla vogliono arderti incenerirti polverizzarti no no a proposito di cenere adesso ci facciamo una bella fumata io sono un uomo che sa sfumare la realtà e quindi se cercate qualcosa da me io posso offrirvi genialità posso offrirvi solidarietà e solidità com'è che dice la proposta solidarietà al pazzino doppiato da giannini solidarietà 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 ma guarda quanta arca si dà quello ma come pensa di sì o vuoi chi ha perfetto a me ma quello è un mostro è un mostro il mostro johnny stecchino ma chi faceva ma si può sapere che venghiere che facevo tacchi poi c'era anche alessio taccherardi che giocava con penduricchi penocchio alessandro alessio del piero ma quello indossa delle calze di tacchini quelli sono filmati ma perché a frusciante non piacciono questi manischi ma perché sono dei manichini ecco torniamo a deniro ecco a proposito questi qua io sono un selvaggio si si come mick jagger il signor pellegrini dice il bambino si sostiene afferma dice che mick jagger e frocio e bobby de niro vai a dire al signor pellegrini ma signor pellegrini se lo prendesse nel culo ecco mick jagger e frocio ma forse è come piano rives che quello è bella sua lei perché si dice che fra mick jagger david bow e forse anche con fredde mercury le c'è stato per forza quello c'è danno che poi se non ti droghe diciamo se non ti droghe e non puoi fare la rockstar ma che cazzo sta di a frusciare ma che cazzo sta di a frusciare ma che cazzo sta di a frusciare accendino accendino svirullino a primo colpo eccezionale vramente mi dicono tutti che sono un animale io come sono fantuziano come umano lei era cieco butterato dal culo basso e alito tipo fogna di calcutta calcutta non va bene non va bene così mi piace bravo no da quando seguo la la mia mente mi anima il mio cuore sono una persona migliore dando retta voi cafoni come balanzone ignorantoni stavo regredendo e mi stavo fermando al vostro livello a livello da toto quindi non rompetemi più cervello e non scassatevi più ecco quello ecco 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 ecco